A piedi e in bicicletta nell'area dello stadio Sinigaglia è il sogno espresso oggi dal sindaco della città Mario Landriscina durante il convegno sul futuro dell'ex Ticosa che si è tenuto nell'auditorium di espansione TV e Corriere di Como. L'idea rientrerebbe nella proposta di un boulevard di un lungoviale alberato lanciata qualche giorno fa nell'ambito dell'incontro promosso dal circolo Villy Brandt sulla riqualificazione urbana dell'asse San Rocco Monumento ai Caduti. Mi piacerebbe che ragionassimo insieme con i cittadini su questa idea e sul progetto di un'area pedonale nei pressi dello stadio, dice Landriscina. Prima di togliere posteggi e assegnare quell'area a una visione più ampia della città, voglio offrire alternative, altrimenti si potrebbero creare conflitti e malcontento. L'investimento sul futuro ciclabile della città deve esserci. Quella è una zona stupenda dove poter camminare o andare in bicicletta senza utilizzare l'auto, ma prima è necessario creare delle alternative. Un tema di grande interesse, conclude il sindaco, da affrontare con molta cautela e tempo a disposizione, sia perché lì abbiamo numerosi club sportivi storici, sia perché dobbiamo prima capire cosa nascerà dai progetti della nuova società, Cuomo 1907 per lo stadio.